e buonasera bentornate bentornati ben ritrovati a questa nuova diretta di cine danza e questa sera siamo qui e come potete vedere siamo negli studios del drama teatro e non al super cinema estivo purtroppo perché il tempo atmosferico era troppo incerto non abbiamo voluto rischiare eccessivamente di farvi bagnare e quindi ci siamo trasferiti qua ci siamo limitati alla diretta streaming e con me alla regia c'è il fido visco visconti prasca giacomo che saluto e vedo che siete già connessi sette in sette bene 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 naturalmente condividete link a questa diretta dove volete su whatsapp facebook instagram eccetera e iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto e seguiteci naturalmente su instagram facebook e potrete trovare tutte le informazioni di cui parlerò oggi a breve anche sul sito internet cioè dramateatro.it slash cine danza salutiamo frida che è connessa dall'estero non è vero non è dall'estero ma per me ormai estero stiamo scherzando salutiamo gli amici sardi e niente direi prima di cominciare sigla così aspettiamo che qualcun altro si connetta e poi vi presentiamo tutte le novità della seconda edizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti eccoci 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 di nuovo la sigla come sempre c'è quella carica giusta per iniziare la puntata e innanzitutto volevo ringraziare tutti i registi le registe gli artisti italiani stranieri che hanno partecipato al bando quest'anno la settimana scorsa si è concluso si è chiuso diciamo e si sono arrivati ben 86 film quindi molto più del doppio rispetto all'anno scorso erano arrivati 38 e per una seconda edizione di un festival inedito diciamo che per noi è un grassissimo risultato ma soprattutto ci piace dire che non solo sono 86 film ma da ben 25 paesi diversi da tutto il mondo dalla nuova zelanda alla finlandia passando per il brasile l'argentina due film africani sono arrivati e per cui un ottimo risultato secondo me e quest'anno ci sono arrivati anche film da registi che avevano partecipato anche l'anno scorso il che ci fa molto piacere perché vuol dire che insomma hanno valutato positivamente il nostro festival e quindi hanno riproposto nuovi lavori che hanno prodotto o durante il lockdown o che avevano prodotto nell'ultimo anno e le regole erano le stesse abbiamo chiesto dei film brevi massimo 10 minuti e quindi cortometraggi di videodanza per chi non lo sapesse ho trovato una definizione precisa di videodanza che è sempre un po difficile da definire e la definizione ce la dà Alessandro Amaducci che sarà ospite al festival quest'anno è una frase molto breve che secondo me però rende molto l'idea innanzitutto parla di screen dance non di videodanza che è un termine un po' più ampio e dice che c'è un rapporto di necessità tra il fenomeno anzi l'evento coreografico e il linguaggio audiovisivo cioè sono due mondi essenzialmente che si incontrano e creano un'opera d'arte che necessariamente deve essere fruita attraverso il video lo schermo ed è una cosa quindi che accade esclusivamente in quel momento lì quindi non può essere fruita dal vivo questa è una definizione secondo me molto pertinente poi chiaramente Alessandro quando verrà il festival ci avrà modo di spiegarci molto e molte più cose e quest'anno oltre a essere stati molto contenti del risultato abbiamo deciso comunque di farlo il festival sia dal vivo ma anche in streaming questa è una delle grosse novità di questa edizione e prima di tutto però vorrevo presentarvi la giuria esperti di quest'anno sono tre membri come l'anno scorso due di loro sono rimasti e sono Dorin Miai e Esmeralda Calabria Dorin è un fotografo e fotoreporter nonché fotografo di scena che quindi bazzica l'ambiente del teatro e delle arti performative da anni ha rilasciato anche un'intervista da poco che abbiamo messo su Facebook nel quale ci spiega l'importanza di fare comunque un festival dal vivo anche se è un festival cinematografico Esmeralda Calabria che è una montatrice cinematografica all'attivo più o meno una quarantina di film dagli anni 90 a oggi è stata ha vinto anche il David di Donatello per Abemus Papam la new entry di quest'anno nella giuria degli esperti Angela Fumarola Angela Fumarola che dal 99 cura i progetti internazionali e coordina diciamo la programmazione ma anche le produzioni di danza di Armonia e nonché la parte tutta la parte di programmazione di danza del festival in equilibrio a Castiglioncello che tra l'altro si svolge proprio in questi giorni quindi giuria come sempre di qualità quest'anno il festival sarà non più di due ma di tre giorni sia perché i film sono molti di più sia perché dovremmo concentrare nella seconda parte della serata diciamo l'evento e non potremo più spezzarlo col buffet purtroppo per le nuove normative anti-covid quindi saranno tre giorni da venerdì a domenica quindi da venerdì 23 ottobre a domenica 25 ottobre 2020 tre giorni 23-25 e in questi tre giorni come sempre ci saranno incontri e proiezioni l'ultimo giorno la giuria esperti decreterà i vincitori quindi la classifica di tre film che visceranno quest'anno premi in denaro abbiamo scelto questa formula dei premi in denaro per semplificare essenzialmente poi la consegna del premio stesso perché purtroppo l'anno scorso dovevamo avere come secondo premio una residenza creativa, una residenza artistica qui in Italia purtroppo è saltata per motivi evidenti a tutti quindi tre giorni dicevo la struttura è la stessa se riusciamo ora io non posso ancora dare l'ufficialità però vorremmo invitare una compagnia italiana a presentare il suo lavoro e ci sarà un film fuori concorso che ci sembrava molto significativo per questo periodo di lockdown un film inglese che volevamo proiettare il primo giorno e siamo in trattative con il regista vediamo se ci darà la possibilità e se vorrà anche lui intervenire in streaming in chiamata Skype queste le prime novità ma un'altra grossa novità di quest'anno sarà la giuria Young grazie alla collaborazione con la fondazione Modena Arti Visive e con la scuola di teatro Yolanda Gazzero quella di Iert i nostri vicini di casa tra l'altro e siamo riusciti a mettere insieme una giuria di sette elementi presi appunto dalle studentesse e dagli studenti dei rispettivi corsi di queste due grosse realtà culturali di Modena e questi sette elementi sceglieranno tre film anche loro sarà interessante vedere se poi coincideranno con quelli scelti dalla giuria esperti e sceglieranno tre film che come quest'anno poi circuiteranno verranno proiettati nelle altre sedi dei diciamo dei nostri partner di progetto che saranno il Circolo Ribalta dei Vignola e il Super Cinema Estivo e quest'anno anche il Non Antola Film Festival se tutto va come speriamo che vada incrociando le dita naturalmente e ho già detto la grossissima novità imposta dalle circostanze che è la diretta streaming i tre giorni verranno qui sul nostro canale YouTube verranno fatti vedere appoggio il foglio e verranno fatti vedere in streaming appunto sul nostro canale ufficiale e saranno dirette lunghe ma voi potrete accendere andare e tornare ci saranno momenti di pausa momenti di rilassamento momenti di attenzione e naturalmente verranno proiettati tutti i film in gara in questo momento infatti è iniziata la fase di preselezione noi di Drama il nostro staff sceglierà diciamo in base dei criteri molto tecnici sottotitoli durata è videodanza non è videodanza quindi criteri molto da bando sceglieranno i film che poi verranno proiettati e sono tanti quindi dovremo cominciare a guardarli e chiuderci in casa per guardarli tutti non voglio parlare oltre questa sera avremo dovuto al super cinema estivo proiettare tre film ovvero i tre film vincitori della scorsa edizione purtroppo siamo qua questa sera e volevo farvi vedere però lo stesso il primo classificato che è Tia This is Africa e ho appoggiato il foglio ma in realtà mi serviva per leggere la motivazione della giuria che l'anno scorso ha segnato il primo premio a regista Mathieu Monier Rossi francese come potete evincere dal nome e sono tre righe molto brevi nel film Tia This is Africa la danza si integra perfettamente in modo naturale con il mondo realistico dello slam in cui è ambientato inoltre la potenza narrativa espressa nel rapporto tra immagini suoni di presa diretta e musica rendono This is Africa un esperimento artistico che riesce pienamente a evocare il concetto universale di libertà effettivamente come potrete anche voi vedere questo cortometraggio dura sette minuti esattamente questo cioè è un video danza che effettivamente esprime un'enorme potenza ha un messaggio molto forte ci sono i sottotitoli in inglese e dei pezzi parlati in francese spero non sarà troppo un problema per questo ma dura dura poco è una poesia è una poesia molto bella e vi ringrazio ancora per essere qui questa sera e qui in presenza ma in assenza questa cosa dovremmo abituarci un po' per me è ancora un po' strano comunque e vi ricordo appunto i nostri canali social facebook instagram dramateatro e ovviamente di iscrivervi al canale youtube c'è un danza festival e le date del festival ve le ricordo segnatele da 23 al 25 ottobre quindi il penultimo weekend di ottobre adesso direi mandiamo il film poi ci rivediamo qua per i saluti le domande finali per chi di voi è connesso e naturalmente grazie